ora abbiamo iniziato per la sessione di lea ciao ti connetti a lea più profondamente conto da 5 15 4 3 2 1 dimmi tu quando sei pronto ok come la vedi lea allora vedo seduta su come se fosse se dire un seggiolino di legno che però poggia su un filo di metallo sospeso in aria ok allora se resta in quella posizione ferma immobile riesce a stare in equilibrio qualsiasi altro movimento lei fa o cade in avanti o cade indietro nel vuoto quindi un equilibrio è stato un filo in piedi seduta ha seduto scosto seggiolino di legno ci dà l'autorizzazione se ok chi ha intorno che è intorno come entità allora cercifero con però si serve di una è un umanoide con sembra molto lungo molto molto macro stretto e alto con i capelli lunghi ed i baffi stranissimi che fanno così e poi fanno delle punte verso l'esterno tipo da lì ci tochi da lì ma sì tipo da lì poi c'è ma perché dice lucifero si chiama così o dietro vedo che c'è lucifero ha dato che utilizza questo umanoide l'interzione in area si lucifero viene dal secondo diverso perché io sono irritato come se ci fu come se tu sentissi un rallentamento un'interferenza che rallenta tuo avvicinamento alla serenità ma con la serenità sappiamo per il rallentamento quindi chiamano preferenza quindi non c'entra lucifero no con te no preferenza non portare definitivo vediamo chi chi altro c'è di entità con lea c'è c'è questa interferenza che sembra un come se fosse una statua c'è si presenta una statua di questo uomo con la barba e dei capelli po così un po mossi però si presenta proprio la statua non si chiama dice che è persefone che dna possiede a una parte di dna che mi fa vedere mi dice che di giove una parte è una parte ti direi siriani siriana ma giove pianeta sì ma è donna persefone mi pare che è una stata c'è io vedo la statua di un uomo però mi appare come stato quindi non poi e poi c'è un grosso falco uniforme un grosso tipo una via di mezzo tra un pappagallo e quindi è grande come un falco ma i colori ecco da pappagallo poi c'è dietro è come se davanti ci fossero questi tre il primo piano e poi dietro vedo due io direi militari sono due militari vestiti tipo da un uomo da fare no però solo so che sono militari vedo c'è un sacco di gente sì e poi c'è un rettile edl 4 entità mentali 1 di livello 4 1 di livello 2 4 allora questa di livello 4 mi fa vedere che è come se facesse che sì che lea c'è manda una convinzione nella testa di lea che dice tu poi tu riesci ad andare avanti solo se ti aggrappi a come se davanti ci fosse un carro dove su questo carro ci sono vedo tutte le sue entità ok e l'entità mentale di livello 4 continua a mandarle l'idea che lei riesce ad andare avanti solo se sta aggrappata a questo carro con l'entità vedo che quando lei cerca di anche solo pensare di cambiare le cose nella sua vita poi l'entità di livello 4 le manda il pensiero le dicesse tu esci da questo meccanismo muori e invece devi rimanere se tu invece rimani in questo meccanismo se già come funziona sopravvivi se lei ha un'idea che non l'aiuta non lo so le conseguenze numeriche e tarocchi gliela lasciano fare se se lei ha un'idea che quindi la sessione di oggi è valida per lei la può aiutare se la sessione di oggi la può aiutare l'importante è che lei non ritorni nelle sue abitudini nei suoi ricordi nelle sue abitudini mentali perché se no ricomincia tutto da capo livello 2 un'altra cosa rispetto alla fisica quantistica allora come se gliela lasciassero fare perché il modo in cui lo fa adesso la può l'aiuto un po però è abbastanza un po a livello di tutti no nel senso molto molto semplificata quindi non è che c'è quasi non la gestisci tu no cioè da quanto da quanto vede come se ti arrivassero cioè come se tu chiedi delle cose e ti arrivano delle soluzioni da un'altra parte ok quindi finché è così che lo lasciano fare tranquillamente se lei se lei dovesse arriva se prima di oggi lei fosse arrivata ad utilizzare a sapere che tutto fisica quantistica c'è tutto il fatto di particelle di quanti e che lei può mettere togliere muovere i quanti dove come vuole avrebbero sicuramente bloccata ecco questo era per far capire fino a che punto le lasciano far le cose no ok vorrei chiedere due cose al lucifero portatore di luce look sfero avanti un passo in avanti lucifero che tanti fa tremare radiografia di lucifero a una ps no alle ps rubate di altri l'energia animica se continua di continua cioè tutti le mandano gli mandano l'energia adesso io vedo che come se che io lo vedo fuori fuori dal primo universo e quindi è come se avesse dei tubi collegati al primo universo da cui continua arrivare continuano a mandargli l'energia delle ps chi e li manda quelli che lo adorano perché credono che lui sia il vero cristo quelli che credono che lui ha portato la luce della conoscenza agli uomini il prometeo lui è il portatore di luce il vero messia che queste fregnacce qua se non solo io vedo anche chi fa delle cose contro di lui esercisti cattolici che l'energia perché lo riconoscono si esattiva importante poi sono le relazioni basse quindi figurati se non sa quindi ci vuole gli danno rispetto bisogna essere rispettosi vestiti bene c'era anche lucifero comunque per far tutto quella baradane perché è un certo livello glielo riconosci no e come si presenta allora le sue sembianze quindi con la faccia un po vieto tipo una faccia un po allungata con delle espressioni questi occhi un po così chiusi un quattro tipo con delle rughe poi vedo due corni e ha un vestito che potrebbe sembrare a tipo è assurda questa cosa è però si vada a vedere assurda se vado a vedere così mi assomiglia a un vestito papale così assurdo con di fianco però come se avesse 22 strisce del vestito due rosse da una parte e poi appena fuori due nere e poi un collo a punta nero adesso lui apre bene gli occhi così li puoi vedere si toglie tutti i vestiti resta nudo così ne vediamo i genitali e la parte anale voglio vedere come alano se ce l'ha se ce l'ha anche così anche una specie di coda tipo c'è c'è tipo lano è di fianco una coppina sopra se c'è una cosa fine piatta e penso piatta non da cane no piatta dritta piatta piatta tipo castoro o pinna di squalo tipo ma neanche piatta nell'altra direzione piatta come come quelle castoro no castoro ce l'ha così per i piedi no anche troppo di una pala che sbatte sul l'acqua anche il giusto quindi così però molto stretta si piatta così esatto però poco proprio stretta chiedi cosa gli serve la coda è più una reminescenza che serve più di rappresentanza diciamo nel senso che l'idea collettiva deve essere non troppo simile a un umano come se fossero stati aggiunti dei pezzi animali ok ma lui chi è rispondo alla domanda intanto chiedimi dimmi se si è tolto i vestiti si si lì chi è quanti anni ha lui c'è dice io sono esisto da da circa vent'anni dopo i primi e lui servivo per creare un'idea opposta nel negli umani rispetto a quelli dell'eloe praticamente la stessa roba con un'idea diversa se quindi glielo imperano per tanto tempo sono stati considerati il bene lui il male lo sa che è solo una variabile della dualità gioco si lui semmai considerato una variabile lui sa benissimo di essere una variabile sa benissimo che che in relazione agli umani e niente ma sa anche che tantissimi umani questa cosa non la sanno e lo temono profondamente e quindi sa benissimo che giocando su questo può continuare a sopravvivere lui sa chi sei tu se e cosa dice a questo proposito fa indica anche a guardarmi sa chi sono io teme teme il nostro sguardo aperto bene gli occhi di che colore sono come sono fatti tanto lea vede tutto è quindi questo è un super lavoro già utile per lei lì in eterico è lì insieme a noi o ancora sul filo lì a fare l'altalena no 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 adesso è bella stabile in piedi a terra diciamo che ci sono anch'io nella scena ci segui io lea e lucifero come siamo messi disposti ora io e te io te un cifro davanti e lea qua che guarda ok occhi come sono fatti li deve tenere spalancati perché noi gli abbiamo chiesto di tenerli spalancati è come se al posto della pupilla avesse a un rombo e poi a come i quadri delle carte messo così e a tutto un bordo e poi a bianco intorno al rombo e intorno un cerchio nero strano e la pupilla è nera il rombo e nero sì ma il cerchio una linea calcata sì 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 ok vediamo facciamo di esperimenti creiamo insieme tutti e tre lea tu e dio un bella d'eterno un grande ce lo mettiamo lì davanti a lui ti dice parla vuol parlare a te dice va bene ok ho visto se posso andare no non lo vuole raccogliere non è alla ricerca di alta vibrazione di vibrazione ecco molto cosciente che quello che la parte mi dice sono cosciente che la parte la mia parte interferente con lea se tocca la d'eterno si brucia si dissolve ok prima hai parlato di canali di tubi che collegano questo qua gli occhi rombo e quelli che sulla terra lo venerano lo combatto non lo considerano importante io per esempio non lo considero non lo considero neanche ogni volta sbuffo più tipo ashtar adesso vogliono anche fare un video con tutti i pezzi in cui io mi incazzo perché c'è ashtar ma questo voglio che non lo facciano veramente imbarazzante e sotto si sono i commenti si facciamolo ok bene me la sono cercata quanti sono questi tubi che connettono questa entità da quattro soldi del secondo universo destinata all'oblio al primo universo dove siamo noi ancora a divertirci con queste quattro fregnacce quanti sono i tuoi sono uno per ogni interferenza di ogni su ogni persona e quindi un miliardo e mezzo ok su uno qualunque mettiamo la d'eterno anche ai piedi lo vediamo in mezzo al tubo a metà strada dentro il tubo e della dimensione del diametro del tubo sappiamo scherzetto carnevale in anticipo halloween in ritardo niente dolci scherzetto che succede che la vibrazione va in tutte e due le direzioni e quindi aumenta la vibrazione della persona che era collegata che si scollega e va a bruciare tutto il canale brucia tutta la parte che riguarda l'attaccamento di quel tubo a lucifero bene vediamo cerchiamo il tubo che collega lea evidentemente lo isoliamo quindi questo tubo no tutti gli altri un miliardo e mezzo meno quel tubo hanno tutti il loro ad eterno un dentro lea quello di lea no perché lo farà lea alla fine tra poco come lo vedi lui che rombo è che sta per sai come un palloncino che è legato appena schiacci se appena tagli il coso vola via ecco è quasi è lì che va bene bene come lo dire bene fuck off lucifer quello che devo dire bene bene con anche la serie televisiva su lucifer è tutta lì così perché hanno scelto l'attore avvenente scelto ovviamente una situazione super sexy super 8 gatti cifri fighissimi attori fighissimi tutti i palestrati e palestrate fatemi la domanda date la volta energia acqua una pagianata ma veramente una pagianata a uno che è la versione negativa di l'eloe ma che positiva non è ma nella raccoglie ne raccontino va bene tanti 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 punti ci sono degli impianti in lea allora allora c'è questo impianto strano che come se fosse una specie di casco ok da qui dietro partono tutti dei collegamenti e ogni collegamento è legato a un'interferenza cerca di spiegare c'è ogni tubo c'è che ne so c'è il tubo che è collegato alla cartomanzia c'è il tubo collegato alle sequenze numeriche che ogni tubo era collegato a una a una tecnica che cercava di utilizzare per per aiutarsi quindi a dei tubi che partono da questa specie di casco qua dietro casco di medusa sì ecco poi c'è un impianto eterico che meno a livello del plesso solare poi ce n'è uno più o meno a livello dell'utero poi uno sulla coscia destra poi uno sul palpaccio sinistra e sui due gomiti basta basta ok causa esoterica delle violenze subite dai vari parenti da molto piccola allora quello che io vedo in eterico è che è come se lei ecco vedo che lei è come se fosse curiosa da piccolo era curiosa fosse attirata da posti dove lei avrebbe potuto scoprire a livello energetico delle cose che l'avrebbero aiutata molto nella vita ok fin da piccola e in eterico vedo proprio che come se la vedo lei tipo con 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 un bel vestitino un fiocco in testa una cosa con un fiocco che entra in questa stanza e mentre entra in questa stanza arrivano come se arrivassero potrebbero essere tipo tre fantasmi che interferiscono su tre persone tre uomini ok e che agiscono su di lei con le violenze in tempi diversi è però è tutto la stessa cosa quindi mi fa vedere una scena unica per far sì che lei torni indietro che non valichi con la soglia ma per quale soglia della consapevolezza se dietro ci sono delle sfere di le sue capacità mediani che che lei ha se lei fosse arrivata a quel livello lì le avrebbe sarebbero stanzialmente forti che addirittura non avrebbero più potuto interferire è come se oltre a vedere i disincarnati lei avesse potuto vedere tutte le sue interferenze capire cose erano e mandarle via e io li vedo che dovevano bloccarla fisicamente sempre in tutta la vita l'hanno bloccata fisicamente e quindi è come se tutte queste interferenze che ha soprattutto e teri che come se facessero una barriera una barriera per nascondere lea alla consapevolezza per lei dietro sarebbe molto semplice se lei riuscisse entrare in contatto con tutta la consapevolezza che c'è lì dietro alle da sempre sarebbe riuscita a far tutto semplicemente ma la violenza al sole cosa serve cosa cento non capisco a livello eterico tu dici se c'è per bloccarla per bloccare la sua curiosità e la sua capacità di trovare la consapevolezza e l'evoluzione non bastavano interferenze che aggivano solo su di lei e quindi hanno dovuto creare interferenze anche dall'esterno parenti che volevano giocare con la bambina se non sono in fondo ma hanno fatto i giochini come se poi c'era qualcos'altro che è successo a cinque anni che adesso non mi ricordo ma rapido di un'altra tappa un'altra cosa adesso la vediamo quindi in qualche modo l'hanno sporcata per impedirle quindi la vibrazione ricordi di lì a poco perché lei non sapeva cosa fossero ma quando da ragazzina è iniziato a scoprire un po come funzionano queste cose doma come ma ma queste cose lo facevano i vecchi acidi da bambina sì e poi sempre no anche il marito che merito violento marito violento che la obbligare a stare lì ferma causa esoterica delle cadute anche qua io vedo che sono sempre loro che agiscono è proprio la devono fermare fisicamente o con in un modo o nell'altro cioè con cose pesanti perché lei va avanti leva le andrebbe problemi di vista ma problemi di vista la vedo più è diventata c'è no è più un la causa è più emozionale suo personale c'è cerco di non vedere quello che vedo perché così riesco andare avanti però furia di fare questo meccanismo i suoi occhi fanno fatica a vedere realmente poi con le cisti vedo un tipo un trauma come se avesse ricevuto una botta lì e poi da lì è rimasta sempre più sensibile quindi si infiamma spesso lei non ci siano problemi mi ha tolti non sappiamo comunque problemi di nei e la sua ipersensibilità alle alle presenze che lei vede e sente come se per la sua pelle fosse troppo è come se si collegassero a lei a livello vibrazionale a un punto della pelle e quindi è troppo per la pelle e crea questi crea questi nei grossi che poi alla fine lei si fa togliere perché diventano forse fastidiosi denti ma non riuscire mai arrivare a quello che desidera è come se fosse lì e però poi si sposta come si dovesse sempre agraferrarlo a mordere l'obiettivo sì è come se lei fa il boccone no di mordere l'obiettivo e mentre fa il boccone l'obiettivo si sposta e tutte le volte è così come quei cani che giocano col pezzo di corda o la bottiglia di plastica un pezzo di corda e lei non arriva a prenderlo se non gioca a fare l'esempio del cane tutto quello che riguarda il seno allora una parte la vedo legata alla figlia la figlia mi sembra che è come se lei si sentisse sempre di doverla nutrire ma non riesce è una parte legata invece al riprezzo per il contatto fisico col marito come se volesse tenerlo lontano difficoltà a dimagrire si sente sempre è come se si sentisse sempre in interico io vedo quello che mi arriva è che lei è come se fosse sola in mezzo a un enorme oceano e per non alle per non annegare è come se le dovesse farsi un salvagente col corpo incapaci incapacità di assorbire integratori perché la quella è più fisiologia secondo c'è non c'è niente di eterico è più fisiologia c'è il problema è riguardo al diciamo disfunzione fisiologica tra virgolette difficoltà fisiologica che sta a priori nell'assimilare quell'alimento con quel tipo di molecola non è per l'integratore non l'assimila neanche dalla line dalle alimentazione scarsa memoria interferenza di livello 2 esatto così l'abbiamo anche analizzata perché mi ero dimenticato di chiedertela ok ha fatto ha sentito ha avvertito che le sono state fatte delle dei lavori magici è così adesso non sempre sono state fatte delle cose con degli oggetti concreti ma sono sempre queste interferenze che interferiscono delle persone all'esterno per tenerla bloccata qua vedo un paio di volte hanno provato una volta e poi dopo un paio di anni non riprovato proprio perché lei era quasi riuscita a trovare il modo per liberarsi da una situazione che restava stretta e tramite questa cosa non ha potuto l'essere volta gli angeli per fare un contro lavoro e poi diciamo se ne ha pentito direi che l'interferenza di lucifero con quella specie di uomo l'astra ha con l'umanoide magro che fa anche da lì se maledizioni gli erano fatte fatture maledizioni si sono quei due lavori che ho visto bisogna chiamare così vedo questi due lavori con oggetti se due a no se con degli oggetti di legno ok lei si è dedicata a tre tecniche vabbè quella dei numeri lasciamo perdere la piramide cioè la piramide quella si metti sotto no che si no quella piccola quella p comunque allora la piramide fantastica nel senso che se uno è centratissimo ed è in grado di proteggersi da qualsiasi interferenza la piramide crea un campo vibrazionale fantastico quindi per salvaguardare il corpo fisico per aumentare le vibrazioni per entrare in contatto con la ps proprio per far sì che tutte le nostre parti siano insieme e siano sincrone l'energia della piramide è fantastica tipo che ne so la fai ci metto il quarto giorno il problema è che devi essere perfettamente sicuro di essere in grado di tenere fuori qualsiasi tipo di interferenza estremamente centrato che sai perfettamente che le interferenze rimavano fuori perché è talmente un canale diretto che basta un niente che quali si mescolano e lei è in grado adesso no dopo la sessione può tenerla un po pericoloso eh sì diciamo che tra qualche anno se se la sente se lo sente se tanto se da qualche anno a qualche tempo ha la capacità pulita di aumentare la sua centratura di consapevolezza potrà capire che si la piramide adesso o non mi serve più lo potrà la potrei usare ma non mi serve più se proprio la vuole usare è arrivato il momento e quella cosa la dell'artica quantistica l'abbiamo vista ok sono tanti punti quindi sto andando veloce per farli tutti c'è una causa esoterica ai due aborti la pia la sua ps che è stata bravissima nel senso a in questa situazione basta avanza una di figlia non so come se è troppo complicato quindi il matrimonio con un uomo violenti salsicchia la fa sentire murata viva una figlia che per questo la colpevolizza tutto questo causa esoterica lei non riesce a uscirne non crede nei canali diciamo classici di uscita da teme addirittura per la sua vita qua ci sono dietro uomini del tempo e tutte le interferenze come dicevo prima che insieme fanno questo muro proprio murata viva io direi che il suo murata viva proprio in eterico io direi che è proprio così lei di qua qua c'è un muro enorme e oltre il muro c'è la sua possibilità di vivere ok ma lei ora può vedere solo questo spazio qua quindi a un movimento molto limitato tra virgolette tra le possibilità infinite che lei avrebbe e quindi quella parte lì di tutte le interferenze poi c'è l'entità mentale di livello 4 che è quella che le manda i pensieri che lei se non può fare altro che rimanere lì perché non c'è altra soluzione perché tutte le soluzioni sono impensabili non funzionano ma quindi c'è tutto questo gioco qua la cagnolina chi è lei è particolarmente legata la cagnolina è la stessa cagnolina che la voleva avuto in un'altra vita e forse quello che vedo io è che lei è come se ogni tanto avesse il ricordo di un altro cane o nel sogno che come se lei si vedesse con un altro cane e quello è vedo io è un ricordo di un'altra vita con un altro cane che è lo stesso cane di adesso ha subito e subisce abduction no con quel casco e il muro di interferenze non ma è necessario rispondere la riccella che ricorda cinque anni e allora allora sto guardando perché fino ci sono state qualche abduction fino ai direi 17 18 anni e come se volessero esser sicuri che il loro progetto andava bene così ok quindi ogni tanto facevano un check ogni tre anni circa quindi 5 6 volte hanno fatto l'adduction per verificare che tutto andasse secondo i loro piani lei sente presenze case maledette è la sua capacità medianica i morti vedeva i morti da bambina anche sì sì quella è la sua capacità medianica che diciamo che nell'equilibrio di c'è queste cose gliele fanno fare no così almeno lei sta un po buona tra virgolette non abbastanza in superficiale superficie se lei parla con i morti non è che loro interesse tanto no le interferenze quindi ma sì lo lasciamo fare così lei tranquilla lì nel suo entourage nelle sue cose e noi possiamo tenerla ferma lì perché da bambina già io vedo che da bambina lei sarebbe stata potentissima viene in mente un film sto sarebbe visto adesso non mi ricordo il titolo ma c'era questo bambino e questa la mamma aveva scoperto che lui poteva una forza energetica incredibile quindi cerca di tenerlo lontano da tutti che quando si arrabbiava o quando era molto molto triste si diveniva fuori una un'energia così forte che riusciva a distruggere intere case intere stanze proprio c'è con un uragano di di vibrazioni altissime esatto blocchi per progetti è tutto questo progetto è tutto questo piano qua ok nella cartomancia la cartomancia le ha portato benefici problemi interferenze impianti niente sì sì no no l'ha portato ha alimentato le interferenze soprattutto l'altro la statua la statua l'entità statua che sente tutto il dolore del mondo ora è aperta anche questi ecco la nostra dote assolutamente chiamiamo marito figlia e tutti quelli che vivi vogliono venire nel cinema il suo amico così tanto non serve ma solo lo vediamo lo conviene il suo amico mi era un amico è un'amica un'amica dell'amico ok mai vanno in giro insieme ok questo non so se lei l'ha capito ma poi lo fai vedere la tua sessione dal tuo amico no se gliela fai vedere il suo amico si le capirà e marito no figlia partiamo dalla figlia davanti era molta sofferenza non sapeva talmente grossa la sofferenza che adesso c'è lei vede come funziona quindi in eteri cui vede proprio che si libera e piange sofferente e proprio che il messaggio di questo pianto è non sapevo come come tirare fuori questo dolore quindi so che tu sei la mia mamma e quindi su te tu ci sarai sempre anche se io ti ha dito la colpa no quindi avviene se si è lì davanti nel contentissima è riuscita a liberarsi di questa cosa e il marito il marito è in un angolo in fondo è un po imbarazzato perché si sente in colpa beh se un merito vuole venire nel cinema con le sue interferenze ma va bene perché se secondo me restano fuori dal cinema se no interferenze no lui diceva per cercare ma nel quale l'angolo se è uguale ok chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di lea capo i capitanati in prima fila i genitori disincarnati ma ci sono sto parlando sono tutte e due molto sofferenti c'è si sono portati nella sono ancora legati alla sofferenza della loro vita i genitori poi la nonna morte sediti alla morte della figlia messi penso che sia la mamma che la mamma però il nonno non era in grado di vivere senza da solo come se fossero tutti allora vedo la sofferenza profondissima della mamma della vita e di quando è morta e poi ci ha seguito c'è il marito che è morto perché legato alla sofferenza della moglie poi la mamma legato alla sofferenza della morte della figlia quindi tutti i legati in sequenza alla morte della mamma di lea non so quanti altri si presentano allora si presentano 37 della famiglia di lea e poi ce ne sono 58 c'è un po allora mi dice che sono quelli del lavoro del marito di lea però sono anche quelli che vedeva lea ma vede lei mentre tutti i parenti entrano tranne i genitori i genitori se vogliono lasciano un messaggio se vogliono ovviamente madre e padre la mamma dice adesso vedendo come funziona veramente ho capito che cosa coseri e cosa facevi da piccola dice era sicuramente meglio assecondati anzi aiutati a fare quello che facevi ma non solo l'ha saputo solo radici il padre ma padre l'abbraccia e basta ok vi salutiamo vanno tutti nel portale aureo causa esoterica della sofferenza per la sofferenza degli animali la sua capacità di sentire gli animali quindi una capacità medianica se deve solo imparare a gestirla ok sempre dall'inizio stiamo vedendo spesso ultimamente questa capacità mediana dall'inizio della sessione quanto a quanto vibora lea il brava 18 miliardi per centuale di consapevolezza inizio sessione però 131 psp 33 vite precedenti 2831 cervello 9,7 ok nelle 2831 vite ce n'è una in egitto che lei ricorda cioè lei sente che ha avuto vite in egitto con 2831 è abbastanza e sono acceso al cinque non antico egitto io direi secolo scorso e la vedo che viveva in questa casa abbastanza grande sai quelli che hanno come siano tipo dei cortili no interni vedo che lei che organizzava spesso feste era abbastanza ricca e di famiglia e ben vista da tutti organizzava feste dove se li utilizzava utilizzava delle e come se mettesse la durante queste feste lei utilizzava quest'acqua queste ciotole con l'acqua poi metteva dei colori nell'acqua a seconda metteva dei colori con dei se cioè con un senso ogni colore aveva un significato e lo sceglieva in base alla persona che aveva davanti e poi nell'acqua lei leggeva delle frasi c'è dall'acqua vedeva delle cose è incarnata la fiamma di lea svezia svezia si è in svezia però ora questo momento è di fedese no per scelitoli per lavoro italiano italiana italiano che potrebbe anche se una donna no è un uomo italiano si trascorre lì per lavoro c'era da tanti anni della sua stessa regione però in alto vanno essere e l'ha incrociato ma tutto è possibile ma l'hanno previsto l'incontro previsto solo se lei riesce a allora io vedo che è previsto se lei da oggi in poi non si ferma più nella sua evoluzione proprio più e se lei dovesse riuscire a fare una vita completamente diversa all'opposto allora si incontrano andiamo al cluster abbiamo visto tutto qua ci sono i contratti di tutte le sue vite finalmente abbiamo ordinato e messo ordine a tutte queste esperienze a tutti questi ricordi a tutte queste disincarnativisti molestie subite questa vita ricca piena confusa piena di blocchi pieni di tentativi bloccati tentativo bloccato esperimento torna indietro ora è tutto qui davanti a lei questi contratti tutte le volte che l'hanno bloccata c'è un contratto sono lì e possiamo andare a vedere leggere coccolare alimentare o eliminare perché lei ha l'esperienza l'ha fatta se hai capito e mo basta la vediamo e non c'è neanche dita mannaggia appena si presenta un po in queste cose queste mie questi miei trasporti emotivi dei simpatici versi dita vengono anche mal interpretati ma chi se ne frega ma che mi frega ma che mi frega che ci frega ma che c'è un po poi non ricordo più le parole ma sono molto interessanti io la so se lo stene il vino ci ha messo l'acqua e noi gli dimmo va bene come serietà cioè siamo al cluster stiamo vedendo il cluster adesso per si parla di edita subito diventa la goliardia ammazzo adesso appena sente questa stessa suona che non la veda la mamma ammazza come dice lei serietà quanti sono come sono fatti lei dov'è che fa lei è dentro con me ci sono anch'io sono 3400 sono ci sono c'è un portacandela piattino con le con una candela lunga per ogni contratto marrono carmine 3.800 molti di più delle vite se un bel po di più non molti ma insomma quel venti trenta per cento in più delle vite non capita mai o quasi cioè o sono come le vite o qualcuno in qualcuno in più ma non il 20 il 30 per cento perché allora lei ha imparato usar le sue le capacità mediane che parecchie vite fa e da lì in poi hanno cercato di fermarla sempre tantissimo più o meno come questa vita qua c'è proprio e lei non molla non molla la ps non molla dice no 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 io vedo che se in questa vita lei da oggi in poi riesce ad andare dritta verso la sua evoluzione consapevolezza dalla vita prossima quasi non riescono a interferirla ok togliamoli tutti mettiamo un interno qui ormai lei ha capito come si fa se dimmi se lo fa con decisione con incertezza con agiterio con convinzione se lo fa vedo che ci mette con amore direi lo crea proprio con amore vedo che ci mette l'amore oltre la vibrazione c'è amore dentro a quella di terno e poi l'ho messa nel classe avatar fatto a mettersi una maschera spaventosa via veloci via buttiamolo ad eternum non ci interessa più lui la maschera quello che faceva il computer quanti tasti al computer quanto è grande il suo schermo se è di fabbricazione giapponese cinese coreana non ci importa via tutto ha chiuso portale fatto la d'eterno sono messa lì ok con questa nuova condizione c'è ancora lucifero no povera lucifero c'è ancora l'umanoide magrolino ma la statua il falconiforme in rettile i militari a 4 dl l'entità mentali 24 le abduction ok nuova frequenza 183 miliardi percentuale di consapevolezza 185 psp e 62 548 ma 38 vite precedenti 2.134 cervello 10,2 ok la figlia che fa salta dalla gioia come se è come se si sentisse libera anche lei da un certo punto di vista marito che fa azione si nasconde suone nascondere ok adesso lei sale sai che cinema hanno una specie di piccolo palco davanti a lei sale sul palco entra nel suo cinema alle sue spalle c'è lo schermo anzi no lei è di fronte allo schermo adesso spalle ci sono quelli del cinema lo schermo diventa uno specchio le prende un microfono e si lascia il messaggio finale tu sei già perfettamente come utilizzare le tue capacità come alzare le vibrazioni e come utilizzarle l'unico meccanismo che ti manca e metterle in ordine come se dovessi incasellarle per argomento ordinarle per argomento e metterle un confine perché quando tu le utilizzi le utilizzi così a casa senza confine quindi questo ti stabilizza e fa sì che poi possano entrare interferenze invece devi proprio allenarti ad utilizzarle nella quantità giusta e nel momento giusto quindi proprio come se dovessi metterle un confine e dividerle ordinarle messaggio relativo al matrimonio tossico se non sai come fare centrati rimane centrata tutti i giorni centro ti manda ad eternum e cercare con la tua forza crea la tua realtà in eterico e vedrai che si creerà anche della matrix non per non non essere sfiduciosa rispetto a questo lo puoi creare veramente tutto tu puoi creare tutto quello che vuoi se vuole aggiungere qualcosa se la vedo che quello che le può che la può far star bene stare da sola te dei momenti durante la giornata o in riva al mare sulla spiaggia non so se per vicino no e oppure vicino a un campo vicino dei campi o in un prato di passare dei momenti così da sola da sola proprio a ferma non necessariamente deve camminare anche ferma sdraiata e da sola allenarsi a sentire le sue vibrazioni e le sue parti del corpo anche va bene come la vedi immagine finale murata viva no adesso lo vedo con un bel vestito lungo una molto lunga con delle maniche larghe un po come se fosse un mago però donna che riesce ad alzarsi da terra ok e con le sue mani crea questa cosa e crea benissimo il tubo che la collegava al cifro e c'è ancora ma non dobbiamo neanche metterlo una d'eterno umili ma mettiamone comunque cinque nei suoi cinque corpi fisico mentale emozionale eterico e subliminale così da alzare costantemente le sue vibrazioni in questo modo così come tutte le volte che ne avrà voglia e bisogno attenzione perché funzionano quindi fatelo createli immaginate li esistono non vedi private di energia la prendete dall'infinita quantità che c'è tutto intorno a noi la fiamma italiana della stessa regione di lea lì in svezia ha visto tutta la sessione no però ho visto che è come se quando l'abbiamo vista vedo che si è girato dietro come se qualcuno come se si fosse sentito chiamare da qualcuno dietro probabile che che senta il collegamento va bene abbiamo finito